La Battipagliese ha tesserato il calciatore Davide Moscariello, nato a Salerno il 16 febbraio 1999. Moscariello è un portiere che ha già vestito la casacca della Battipagliese nella passata stagione, prima di essere girato alla Polisportiva Santa Maria e alla Solofra. Al momento della firma, il neo-piplet bianconero si è dimostrato entusiasta. Sono contento, ha detto Moscariello, di ritornare alla Battipagliese, non vedo l'ora di iniziare a mettermi a disposizione del tecnico Fusco. Ringrazio la società per aver creduto in me. Invece il portiere Roberto D'Amato, classe 2000, è stato svincolato, mentre il centrocampista Giuseppe Rago è stato ceduto in prestito al Buccino Volcei, formazione che milita nel campionato di promozione.